1, 2, 3, 4 Nell'abbraccio delle sue tante famiglie, madri e sorelle che si curano di lui e sguardi di sirene che riposano negli angoli di casa sua. Questo ragazzo di 40 anni, amato un uomo e poi una donna, mi racconta che ha passato un anno e mezzo in una comune nello Stato di Bahia e anche se da tempo è tornato sarà sempre un figlio di Le Manjai, Le Manjai, dimmi se questa è o non è magia. Asce, asce, fortuna a te, dice che non è vero, siamo obbligati ad essere felici. Dimmi se questa è o non è magia. Asce, asce, fortuna a te, storie di chi rimane, invece lascia tutto e se ne va. Storie di chi rimane, invece lascia tutto e se ne va. Ti è piaciuta? Sì, apporso la mia chitarra è piaciuta. Infatti, hai dato una spinta notevole. Così? Facciamo un'altra?